Ciao a tutti coloro che come me oramai detestano la tv e guardano e postano video solo su youtube E' un po' che non faccio un gameplay o un let's play L'ultimo è stato quello di The Suffering ma non è stato perché non abbia giocato Ho giocato abbastanza in effetti Ho finito e non dico quasi platinato ma ho preso un bel po' di trofei in Fallout 3 Mi è piaciuto un casino, un capolavoro secondo me Poi ho giocato Heavy Rain Questo non è il capolavoro di cui molti parlano secondo me Io preferisco le vecchie avventure grafiche come struttura Però mi è piaciuta abbastanza, la trama c'è Poi ho giocato Resident Evil Code Veronica Non l'ho comprato HD, non sono d'accordo con le politiche che sta dotando la Sony in questo periodo Mi sento abbastanza inculato dalla Sony ad essere sincero Voglio dire, non vedo perché comprare quando... Cioè praticamente ci sta vendendo le cose che noi potremmo già avere Io l'ho trovato di seconda mano per 5€ e l'ho preso Così c'ho il CD invece di avere solo il file Poi adesso io non so tanto bene come funzioni Ma non credo che sia tanto comodo neanche in caso ti fonda la Playstation Cosa che succede tutt'altro che raramente A me soprattutto Per la fortuna che ho Comunque mi è piaciuto tantissimo anche Code Veronica Vabbè ma adesso guardiamoci un po' di questo video Cosa che succede The Witcher Il gioco che all'inizio non mi stava facendo impiazzire Adesso sto giocando a The Witcher All'inizio mi stava facendo veramente cagare Tanto che stavo pensando di farci un gameplay alla Ganon 3... Ganon 3 Force È un youtuber che fa video su Skyrim Urlando dicendo che fa schifo Si può essere d'accordo oppure no Io personalmente lo trovo molto divertente Questo The Witcher a me non stava piacendo Perché credo che abbia uno degli intro più... Degli inizi gioco più brutti possibili per un GDR Cioè all'inizio non sembra neanche un GDR Sembra un gioco di ruolo Sembra un brutto gioco d'azione Con visuale dall'alto In effetti anche dopo un po' si capisce che non... Non è possibile scassinare La magia è molto limitata A me piacciono di più i giochi appunto alla Skyrim Che non mi posso permettere in questo periodo Diciamo alla Morrowind Comunque Bethesda Bethesda Questo all'inizio mi stava ricordando Gothic Cioè non è brutto come Gothic Gothic io credo che sia veramente uno dei giochi di ruolo più brutti che abbia mai giocato Molti non saranno d'accordo Ma a me veramente quel gioco non... Cioè voglio dire Non c'è nessuna differenza tra Gothic e Prince of Persia Con la differenza che in Prince of Persia è molto più d'azione È molto più spettacolare Quindi ciò rende assolutamente inutile Da tutti i punti di vista un gioco come Gothic Con una trama lineare, con uno svolgersi lineare Con un'evoluzione del personaggio abbastanza lineare E io temevo all'inizio che veramente questo The Witcher fosse una cosa così Cioè la grafica è veramente buona di The Witcher Per essere un gioco... Stiamo parlando di un gioco europeo Come mi pare non vorrei sbagliare anche Gothic Forse sto dicendo una cazzata Forse Gothic non era europeo Questo comunque è un gioco europeo Mi pare inglese Con una grafica particolarmente buona Per gli standard europei Però insomma per me la grafica non è tutto Il gioco sembra bellino Sembra più bellino di Gothic Speriamo che proceda anche meglio Sono indeciso se farne un let's play completo Non lo farò perché non lo rinizio da capo Solo al pensiero di rigiocare quel tutorial Al piango sangue Veramente bruttissimo Però magari insomma Farò più di un gameplay Mamma mia che lungo questo video A differenza che col gameplay Che ho fatto di The Suffering Questa volta Non farò un gameplay in diretta Cioè Che parlavo mentre giocavo Qui invece registrerò E poi parlerò Cioè Poi ci parlerò sopra Riguardandomi il video Perché Voglio provare così Voglio cambiare Anche perché Nell'altro gameplay Dopo un po' Mi rendevo conto Che non avevo più nulla da dire Il video rimaneva molto vuoto Di dialogo Il commentario Molti Molti su YouTube Fanno così Parlano di quello Che stanno facendo nel gioco Cioè tipo Mentre fanno il commentary Di Resident Evil Dicono Adesso vado E devo prendere questa chiave Con cui poi aprirò quella porta Con cui Dove poi troverò Quell'erba E E' una cosa che a me Personalmente non piace tanto Perché voglio dire E' ridondante No Poi anche Non so Anche il vlog Dove uno si spara la telecamera In faccia e parla E' una cosa che non mi fa impazzire Cioè Ce ne sono di belli Sì certo che ce ne sono di belli E sono comunque utili Però io voglio fare Mi è venuta appunto quest'idea Non sono l'unica a farlo Già qualcun altro lo fa Che mi piace molto Di fare dei Dei gameplay E di parlarci sopra Di un argomento Estraneo al gioco Tanto voglio dire Uno che guarda la soluzione Per vedere il gioco Lo vede E in più magari può Ascoltare Un Se vuole ascoltare Un qualcosa di diverso Dei dell'ascia L'era del disprezzo Era il dirivia scomparabile E venne presto dimenticato Ma questa E' un'altra storia In questo mio primo video Vorrei In questo primo video di Let's play Ammesso che sarà un let's play completo Di The Witcher Vorrei parlare Della situazione Della questione con Paolo Villaggio E la Sardegna Di recente O cioè questi giorni Si è arrivata la notizia Che forse I pastori sardi Hanno raccolto le firme E hanno denunciato Paolo Villaggio Per una battutaccia Orribile Che aveva detto Su Rai 3 Dove era ospite Come ho detto Non guardo la tv Quindi non ho visto Il programma in diretta Cioè il programma in Rai Ho visto solo il pezzo Su Youtube Registrato E caricato su Youtube Era una battuta Squallidissima L'unica che poteva ridere Di quella battuta Era appunto La La Mussolini Che era lì presente E che come ha sentito Che la battuta Era appunto Qualcosa come I pastori sardi Stuprano le pecore Questa era la battuta Proprio in sé Cosa ci sia da ridere A parte il fatto che è vecchia Come quella dei sardi Che parlano al contrario Se non ve l'ho detto Io sono sardo Sardo Io sono Quindi La cosa mi tocca Abbastanza da vicino Però La questione è che Io comunque non mi trovo D'accordo Con questa denuncia Perché Pare il fatto che a me Comunque come comico Villaggio piace abbastanza E non sarà certo Per questa battuta Che smetterà di piacermi Cioè ha fatto tanti film di merda Villaggio Come tanti comici italiani Il comico italiano Che non ha fatto un film di merda Non esiste Anche Totò Ha fatto un film di merda E Villaggio Non è neanche uno Di più scarsi Ha fatto tanti film Ha una comicità Un po' sua E Ha la comicità Nel sangue Sicuramente È anziano Cioè voglio dire Oramai È uno che fa tante battute Sarà anche lecito A sbagliarne una Dico io Ha sbagliato una battuta Era brutta Non faceva ridere Ci si può anche incazzare È anche lecito incazzarsi Anche leggi A fargli sapere No sto cazzo Le pecore te le scopi tu Questo è giusto Però Denunciarlo È sbagliato Perché è Veramente Berlusconiano Cioè io Ci siamo liberati di Berlusconi E ci comportiamo noi Da Berlusconi E con questo non voglio dire Perché Qualcuno potrebbe dire Ah stai dicendo che I xardi sono Spermalosi No non è questo È proprio gli italiani Il problema Il problema è che in Italia Ognuno vuole essere Il Berlusconi di se stesso Cioè Berlusconi Quando ha fatto L'editto bulgaro E ha cacciato via Luttazzi Perché Luttazzi lo insultava Ora Era sattire Va accettata Ma Luttazzi lo insultava Di brutto A Berlusconi E lui ha buttato fuori Ha fatto buttare fuori Luttazzi appunto Santoro e Biaggi Su Biaggi Non si sarebbe dovuto Proprio permettere Ma comunque Ha sbagliato tutto Berlusconi Non c'è niente da fare Però Berlusconi Era il male appunto Cioè è arrivato A un certo punto Che nessuno Stava più dalla parte Proprio perché Era un fascista Perché Si stava comportando male Perché Tutte le cose che sappiamo E soprattutto Ce l'avevano con lui Chi faceva Ce l'aveva con lui Chi faceva sattira Giusto Ora ma nel momento In cui Noi popolo italiano Siamo i primi A non accettare Una cazzo di battuta Ed è successo Con i sardi Ed è successo Con i friulani E succedono sempre Ste cose Cazzo Io dico Accettiamola una battuta Porca puttana Perché poi è logico Se non accetta La persona comune La battuta Figurarsi Accettarla Il politico È logico Cioè è un meccanismo Veramente malatto E poi Parlandoci chiaramente Voglio dire Il motivo vero Quando si Fanno queste cause Ci si può Prendere in giro Con Questione di principio Di non principio Ma quello che si cerca È il grano Voglio dire Se gli hanno fatto Causa Perché in realtà Quello è pieno di soldi Vediamo di spigliargli Qualcosa Cioè il tentativo È comunque lucroso Cioè voglio dire Questa è una battuta Che Che avrebbe potuto Farla chiunque Però l'ha fatta A villaggio In tv E quindi Massacriamolo Non lo trovo Proprio giusto Credo che davvero Dobbiamo iniziare A chiederci Se abbiamo Il governo Che meritiamo E se I parlamentari E i politici Sono Non ci rappresentano Oppure molto più Semplicemente Sono lo specchio Del paese Ciao a tutti Ci vediamo Col prossimo Gameplay Ciao Ciao Ciao